Mister, come si commenta una sconfitta del genere dopo comunque una prestazione di grande cuore, anche a tratti molto buona? Andando ad analizzare gli episodi, che ci sono stati tutti purtroppo contro, per bravura del Catanzaro, de merito nostro, quello sicuro, all'interno di una prestazione, come dicevi tu, che da parte dei ragazzi è stata di grande volontà, di grande spirito, però purtroppo, ripeto, siamo sempre a commentare episodi che gli altri monetizzano molto bene, noi purtroppo sia in fase difensiva che in fase offensiva siamo un po' carenti.